Siamo nella sede della Federazione Marchigiana delle BCC per assistere alla presentazione di un importante protocollo d'intesa tra l'Asur Marche ed il Comipa, il consorzio tra mutui italiane di previdenza e assistenza. Presenti i vertici dell'Asur Marche e anche quelli delle BCC e delle mutue assistenze. Naturalmente questo è importante per dare una risposta ai soci delle BCC in termini di salute e di abbreviazione dei tempi d'attesa. Un accordo che mette il territorio in contatto con gli specialisti sempre dello stesso territorio. Sentiamo quali sono i termini di questa intesa così importante per i cittadini e per i soci delle BCC. Il prodotto di cui stiamo parlando è una convenzione che l'Asur Marche ha stipulato con il Comipa che è il consorzio delle mutue a livello nazionale. Qui nelle Marche le mutue presenti di ispirazione delle BCC sono quindi Suasa Vita, Alba Nostra e Infinito Vita. Quindi in questo momento io rappresento Suasa Vita. Quindi la convenzione prevede che c'è una possibilità di poter usufruire delle prestazioni sanitarie in libera professione a prezzi convenzionati calmerati. Questo abbassamento del prezzo praticamente arriva dal fatto che le mutue interverranno con un loro contributo a sostegno della prestazione del professionista. Oltre a queste prestazioni che vanno nel campo della diagnostica risonanza magnetica e TAC cardiovascolare, ecoimmagine, ecodoppler e quindi anche nella cardiologia, prevede anche campagne di prevenzioni. Noi come Suasa Vita abbiamo già iniziato l'iter burocratico e dentro il mese di maggio inizieremo una campagna di screening del melanoma con il poliambulatorio di Senigallia in quanto nella regione Marche purtroppo le indagini statistiche ci dicono che è in aumento il melanoma. Quindi tutti i nostri soci potranno usufruire a un prezzo convenzionato di questo screening che inizierà da maggio per tutti i nostri 1500 soci. L'articolo 2 del nostro statuto sociale prevede che la funzione delle BCC non è solo quella di venire incontro ai bisogni creditizi dei propri soci ma anche quella del benessere dei soci e del territorio e una delle esigenze avvertite di questi tempi è ovviamente l'approccio con la sanità e l'accordo raggiunto tra il credito cooperativo e la ASUR regionale conferma e costituisce un modello a livello nazionale perché è il primo accordo di questo tipo ma risponde alle concreti bisogni dei nostri soci. Questa è un'iniziativa estremamente importante della quale siamo orgogliosi e di cui anche la regione Marche ha preso coscienza e siamo oggi particolarmente orgogliosi di ospitare qui in questa federazione la firma della convenzione. Per noi questo è un progetto pilota che serve comunque a introdurre strumenti più flessibili proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini. Si inserisce perfettamente con un'azione importante che è voluta dalla Presidenza e dalla Giunta regionale sulla lista d'attesa e in un punto specifico di una delibera proprio della nostra regione Marche viene inserita questa possibilità di attivare percorsi in attività libero professionale intramenia quindi con i nostri professionisti all'interno delle strutture che danno accesso a tariffe calmerate alle attività di diagnostica che per adesso sono state attivate. Ritengo che sia un'esperienza interessante e per noi è un progetto pilota. L'Ecomipa ha creduto fin dal primo momento in questa iniziativa. È la prima in Italia e questo ci inorgoglisce un pochettino come marchigiani di questa iniziativa che abbiamo avuto la fortuna e la capabilità di avere qui nelle Marche. L'altra considerazione che facciamo è che siamo sulla strada giusta perché tra qualche giorno il presidente Rossi della regione toscana avvierà i contatti con la federazione delle banche di credito cooperativo per fare la stessa cosa nella regione toscana. Quindi è un doppio motivo di orgoglio. L'ultimo rapporto in termini di sanità nella nostra provincia dice che in provincia di Pesaro, Urbino e Affano si invecchia e si invecchia bene. Però la richiesta e la necessità di approfondimenti, di indagini in ambito sanitario, è sempre più pressante. Sì, sicuramente. L'ho letta anch'io questa indagine. Si tenga presente comunque che la crisi ancora il carolino continua, non è poi finita. Ci sono molte difficoltà da parte della nostra clientela che sentiamo ma da parte della popolazione. Questa iniziativa di cui precedentemente hanno parlato molto bene va proprio in questa direzione. Cioè aiutare, dare un servizio tramite questa cassa mutua che chi ha passione di storia come me è una vecchia società di mutuo soccorso. Cioè Affano c'erano quelli dei pescatori, c'erano dei cattolici che praticamente si mettevano insieme per aiutarci, ritorna anche nel 2016. È lo spirito cooperativo che in questi momenti di difficoltà si cerca di mettere in piede delle iniziative con lo scopo di aiutare soprattutto quelli che sono in difficoltà. E credimi, quelli che sono in difficoltà sono veramente tanti. La mutua esistenza è un qualche cosa che affonda le radici nella nostra tradizione culturale. Insomma questo è un lavoro importante che voi svolgete. Sì, è importante soprattutto. Il nostro obiettivo quando l'abbiamo costituita sei anni fa è quella di fare prevenzione per i nostri soci e i nostri clienti. E questo penso che è uno degli obiettivi che è stato centrato dal Presidente della sua Asavite insieme con gli altri due Presidenti a livello regionale. Ecco, la richiesta di salute è trasversale. Non conosce ceto sociale, non conosce condizione economica, però c'è e questa è una bella risposta verso queste persone. Sì, è una risposta che poi, se permetti Lino, va anche in direzione che noi come direttore di Banca Suasa sono molto orgogliosi ed affanese di allargare, come hai ben visto, la nostra filiale di Fano perché la nostra clientela aumenta, ma oltre che aumenta noi siamo pronti a recepire i bisogni della nostra clientela. Pensa su questa società di Cassamuto abbiamo 1200 soci, Banca Suasa ce n'ha 3700 di cui 600 a Fano e a questi pensiamo di dare un servizio che, credimi, non è solo come immagine, come Banca Suasa per avere un tornaconto inutile, eccetera, ma è un servizio veramente destinato ad aiutare la clientela e i soci.